La Germania vuole porre le basi per vissare il successo mondiale conquistato in Brasile ma per farlo deve battere il Cile nella finale di San Pietroburgo della Confederation Cup, un aperitivo della segna iridata del prossimo anno proprio sui campi della Russia. I tifosi del Cile ci sperano. Siamo qui con grande gioia e speranza, stiamo vivendo una festa, una fiesta latinoamericana. Chile è il campion, Chile è il campion, Chile è il campion, il campion, il campion. Oggi siamo qui per vincere questo torneo, abbiamo già vinto due Coppi dell'America, questo è il nostro prossimo passo per cercare di vincere un giorno la Coppa del Mondo. Medvede Sanika predisposte la vittoria della Germania, ma questo è il nostro prossimo passo per cercare di vincere un giorno la Coppa del Mondo. Chiari!